Ciao! Oggi siamo all'Oli Festival, mi hanno fatto togliere l'app della GoPro, quindi le riprese saranno orrende per tutto il tempo del festival. Fare vedere gli occhi. Queste saranno le mie amiche, gli altri sono dentro, ce li siamo già persi, Gloria e Federica. Adesso questo è l'inizio. Il countdown ci sarà alle 3, sono le 2 e mezza, 45 gradi e siamo senza crema solare. Benvenuti al primo All In Festival All Colors in Italia. Roma sei la prima. Fatemi sentire un urlo. Ora vi comunico una cosa, ogni ora scandiremo un countdown. Partiremo da 10 e faremo un'esplosione di colori. Quindi ci coloreremo tutti. Oli Festival All In World. Let's go B-Boy! No! No! Sì, sì! Aiuto! No, che non ci riesce! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti 2, 1, 2, 3 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti